Sono qui perché volevo raccontarvi una storia che ho tenuto per me per tanti anni, per una ventina d'anni perché avevo paura di non essere creduta e ve la racconto perché vorrei che tutte le persone che magari hanno vissuto qualche cosa di simile non si sentano sole ma che vogliano raccontarla e desidero raccontarvela perché comunque ha dell'incredibile. Grazie a tutti.